Un mare di iniziative proposte da Sottocosta e Salone Nautico del Medio Adriatico in svolgimento al Porto Turistico Marina di Pescara. Giunta alla decima edizione, la tre giorni da oggi fino al 5 maggio, offrirà non solo l'esposizione di barche natanti con 13 regioni presenti, ma metterà in campo anche tante iniziative per tutte le età, tra dibatti di convegni, esperienze in mare, le immancabili tartarughe, il dibattito sul futuro del turismo nautico. Entusiasmo per i dieci anni al Porto Turistico Marina di Pescara e il presidente Gianni Tauci. Iniziamo oggi il decimo anniversario, quindi la decima edizione del Salone del Medio Adriatico Sottocosta. Lo facciamo con un'area espositiva molto più importante, con tantissime barche, tantissimi espositori, sono 13 le regioni che sono presenti in questo Salone, tante le attività durante la tre giorni per i bambini, per gli adulti, ma anche momenti specifici molto importanti che vedranno partecipare la regione Abruzzo, le regioni Puglia, la regione Marche per degli appuntamenti dedicati al turismo nautico, ma anche alle problematiche dei porti turistici. Ed è un momento particolare perché quest'anno abbiamo anche tantissimi barchi in acqua per far vedere ai diportisti, a chi è interessato ad acquistare, prodotti direttamente in mare. L'evento Sottocosta è cresciuto ogni anno, afferma il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever. Il turismo sul mare e il turismo è una ricchezza molto allargata, perché quando parliamo di turismo parliamo di interessi della ristorazione, dell'agricoltura. Il turismo è un interesse molto ricco. Insomma c'è un indotto che ruota attorno a questo tipo di turismo. Sì, perché oltre all'industria nautica, che in Italia è un'industria fiorende, rappresentiamo tra le migliori imbarcazioni del mondo, costruiamo l'imbarcazione d'eccellenza, oltre a quell'economia certamente importante, crea il turismo nautico, il turismo del mare, crea altre economie. Un modo per avvicinare tutti al mare, sfatando il mito comune che il turismo nautico sia riservato solo ai più ricchi, Francesco Di Filippo, a sua nautica Chieti Pescara. Sì, assolutamente. Eventi come questi, come Sottocosta, sono proprio l'esempio e l'opportunità per scoprire la possibilità di vivere in mare, non solo dalla spiaggia, ma appunto tramite la navigazione e quindi la fruizione del mare, con esperienziale, c'è la pesca sportiva, c'è la vela, c'è la navigazione, c'è la vacanza in barca, tutto è accessibile, tutto alla portata di mano e in questi eventi è la possibilità di incontrare sia i costruttori, sia i promotori di attività sportive che anche di vacanza in barca. Ma durante Sottocosta, e questo è molto importante, ci sono tante iniziative. Anche una vela inclusiva, c'è un progetto presentato da Assonautica Italiana e da Dinautica, che riguarda proprio anche i non vedenti e i portatori di disabilità.